la bacioccona mia papà, perché Francesca ti ha lasciato? Francesca non mi ha lasciato mettiti il cuore in pace Andrea Francesca ha dato forfetto almeno devi calci dove sono ma lasciami perdere, non perdere ti ha lasciato in braga di tene, eh? beh, quando ci vuole, ci vuole ma dove sei, perché non torni? tranquilli ragazzi se fate i bravi, mamma tornerà papà prende moglie martedì 20 e 40, canale 5 la colazione? no no, preferisco Kinder Colazione Più anche Isabella ha cambiato idea zitto tu, e passamene una beh, si è decisa anche lei a far colazione in modo più completo con più gusto e con più cereali, ben 5 e anche più morbida con i 5 cereali di Kinder Colazione Più con quel gusto di cacao che ti tira un po' su puoi partire alla grande Kinder Colazione Più più gusto, più cereali signorina la serata più frizzante ieri sera con un maschio il maschio più famoso d'Italia arrivano arrivano da tutte le galassie per la settimana più magica dell'anno i 7 giorni in SIP si può vincere un appunto entrando in un negozio Telecom Italia o in SIP dal 17 giugno e per chi acquista un prodotto in SIP cancella e vinci sempre regala tanti fantastici premi e viaggi a Disneyland Parigi 7 giorni in SIP dal 17 giugno vi aspetto in caso di contusioni o distorsioni l'applicazione di Lasunil dà un rapido sollievo Lasunil riduce il gonfiore attenua il dolore favorisce il riassorbimento dell'ematoma Lasunil trattamento immediato rapido sollievo da oggi anche con nembolizzatore è un medicinale leggere attentamente il foglio lustrativo Xantia capovolge la vostra idea di estate l'estate si annuncia fresca freschissima con il climatizzatore di Xantia 1.8 Klim un benessere da sogno ad un prezzo con i piedi per terra Nuova Citroën Xantia 1.8 Klim a 31.850.000 lire Manzotin sceglie soprattutto carne argentina per darti un piatto genuino e gustoso Manzotin il piacere della carne e da oggi in cucina il piacere continua raccogli i punti Manzotin avrai in regalo le bellissime pentole moneta compra Manzotin guadagni moneta Nivea Sun è la protezione solare attiva per la tua pelle per chi la protegge dalle scottature con filtri UVB e dall'invecchiamento prematuro con filtri UVA in più grazie alla vitamina E aumenta le difese naturali della pelle la protezione solare che si prende cura della pelle Nivea Sun la protezione solare attiva se dico Nutella lei cosa dice? ah Nutella l'altra notte sapete mi era venuta voglia di Nutella in quel momento rientra mio figlio beh beh non volevamo svegliare nessuno e invece che bello è già ora di colazione eh sì è stata una colazione davvero speciale perché Nutella è così sempre un po' speciale che mondo sarebbe senza Nutella alla base di una vita equilibrata fibra e salute fin dal mattino gran cereale il biscotto del mulino bianco più ricco di fibre chi mangia sano trova la natura anche a lice anche a lice che 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 che